Buonasera a tutti amici Genoa-Inter, le squadre stanno entrando in campo, ultima partita del 2023, cerchiamo di chiudere in bellezza. Buonasera a tutti, una partita tosta, difficile, molto difficile stasera. Mi ha anticipato quello che volevo dire, confermo. In questo campo sono inciampati quasi tutti, per vincere bisogna fare una grande prestazione, amala sempre. Ma la Gerbi non vale, sono sempre iniziali alla Gerbi, benzeri, ma non vale. Non sono sempre iniziali alla Gerbi, non c'è. Non è anche iniziali alla nuova di ritorno, gli avversari di prendono volarti, sai. Ma la gente era iniziali, sono iniziali. Ma lo fissiamo, eh. Ma lo fissiamo, eh. Il servizio è buono, è seguito al loro. non so Oh, no, no, no. E' no, ma non si fa mai questo qua. Non fa niente. Grande, grande. Bello. Che bellissimo paro preso. Come è pure fallo? Come è pure fallo? Come è solo non si fa. Come è molto lungo. No, non è possibile. You guys, abbiamo avuto un hong戈. non c'è la cosa, io sembrava come un pochettino mamma mia, mamma mia mamma mia, mamma mia mamma mia mamma mia, mamma mia mamma mia vai va, va, va va, 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 va va, 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 va come stasera non ci ringraziuto 那麼 tutto un altro bidone abbiamo preso bellissima cosa un altro bidone ho fatto bisogno bastoni non dormi non siamo non ciò che non giurà questo video ma non ciò che non giurà non ciò che non giurà ma non ciò che non giurà ma non ciò che non giurà non ciò che non riesce a farla ma è un ma questo è un altro nodo ma questo è un altro ma sono ma perché sono il loro ma aspettiamo un replay la cosa strana è che uno dei giocatori prima di bastoni occasione aerea ottima risposta la parte di una pazzompa una pazzompa la parte di un po' il ultimo posto la parte di un po' il compito non è un po' la parte di un po' anche l'inter deve fermarsi uno a uno dalla risposta in tremo sino alle dottor l'automigiano perché come abbiamo giocato è andata fin troppo bene prendiamoci il suo punto e speriamo domani e pensiamo al 2024 amiamolo sempre anche quando siamo amiamolo sempre buon anno buone feste e amala sempre